Grazie Presidente. Non so quanti cittadini stiano seguendoci. Spero pochi, perché io temo, temo fortemente, che dal dibattito di oggi questa Assemblea rischi di non uscirne benissimo, visto le cose che ho sentito poc'anzi. Il tema vero di cui dobbiamo parlare oggi è di un filo che si è spezzato, un filo tenue che è il filo che collega i cittadini alle istituzioni ed è quel filo che si chiama fiducia che consente a un Paese democratico di poter assieme guardare con speranza al futuro. Purtroppo oggi io devo registrare che questo filo qui in Regione Lombardia si è spezzato, perché purtroppo voi, che governate questa Regione, vi siete preoccupati in questi mesi più di voi stessi, in una prima fase pensando di poter trarre una sorta di dividendo sull'autonomia da questa vicenda, in una seconda fase preoccupandovi della vostra sopravvivenza politica più che della sicurezza dei cittadini, i quali, e non era mai accaduto nella storia della Lombardia, si sono sentiti soli e abbandonati spesso nelle loro case. Come soli e abbandonati, purtroppo, e non lo dico con soddisfazione ma con grande sofferenza, si sono sentiti quasi tutti gli operatori sanitari di questa Regione che non hanno potuto contare, non per responsabilità cercate o quant'altro, non hanno potuto contare su una protezione rispetto a una epidemia che è esplosa in modalità e tempi che mai avremmo immaginato. Non era mai accaduto in Lombardia che le istituzioni si chiudessero nel Palazzo e solo a posteriori validassero quello che sul territorio gli eroici operatori hanno fatto e non era mai accaduto in un Paese come il nostro, che le istituzioni affidassero solo ai cittadini la responsabilità di tenerci fuori da un'epidemia disastrosa. Solo il lockdown ci ha salvati, non ci ha salvati una politica lungimirante di questa Regione. Anche in questo territorio, un territorio che è sempre stato guida ed esempio per l'Italia e in questi mesi è diventato il problema dell'Italia, non per scelta deliberata ma per incapacità di gestire una situazione che fin dall'inizio è stata interpretata con la preoccupazione di salvare se stessi piuttosto che di dare dei messaggi che potessero essere all'insieme della sicurezza dei cittadini. Sicurezza, sì. L'etimologia di sicurezza è quasi beffarda oggi, a leggerla. L'etimologia è sine cura. Cura in latino vuol dire preoccupazione, in italiano però significa cura, a prendersi cura dei cittadini. Purtroppo in questi mesi, in troppi, sono rimasti senza cura, senza attenzione, per mancanza di programmazione di questa Giunta, che non ha neanche voluto farsi aiutare. Noi fin dai primi giorni della pandemia abbiamo dato la piena disponibilità a collaborare, a essere coinvolti come minoranze. Abbiamo sempre trovato la porta chiusa. E, signori, questo, come ogni scelta, comporta delle conseguenze. E la conseguenza è che noi, a un certo punto, ci siamo visti costretti, per nostra responsabilità, a mettere di fronte ai cittadini le cose che non sono funzionate. Se ci aveste coinvolti, eravamo disponibili a prenderci con voi la responsabilità. Non avete voluto farlo e le conseguenze poi si pagano. E quel filo si è spezzato anche per quello. Non entro nel dettaglio delle singole azioni, perché mi interessa più spiegare perché in questo momento non c'è più la fiducia nei confronti di questa amministrazione. E chiudo, perché volevo stare proprio nei cinque minuti, usando una metafora che fortunatamente possiamo usare, perché è andata bene. A metà del mese di agosto abbiamo vissuto con terrore almeno tre ore in cui non capivamo cos'era successo. Un treno senza conducente ha percorso più di dieci chilometri in Lombardia, andando per fortuna, per la bravura di coloro che hanno il controllo della linea, a schiantarsi senza fare grossi danni, se non un 6 milioni di danni materiali, ma per carità, rispetto a quello che poteva accadere. Perché uso questa immagine? Perché in questo momento io ho l'impressione, perché si è spezzato quel filo di cui parlavo, che questa regione sia un treno senza conducente. E quando c'è un treno senza conducente c'è solo una cosa da fare, tirare il freno d'emergenza. E questa mozione, per evitare che questo treno senza conducente si schianti in maniera disastrosa, questa mozione è il freno d'emergenza che noi oggi vi chiediamo di tirare.